benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi come promesso terminiamo la settimana video su youtube con la recensione del nuovo cacciatorpediniere del cantiere navale il cinese barra panasiatico lushun un cacciatorpediniere diciamo cinese barra sovietico molto particolare ma è realmente costruito anche se tecnicamente i progetti raggiunsero un livello di sviluppo veramente piuttosto notevole come potete vedere dalla minimappa siamo qui su war of practice il cammino del guerriero himmelman contro roosevelt combattimento porta aerei piuttosto sbilanciato tra loro ma la nostra himmelman è un signor giocatore di porta aerei comunque yo boy quindi parliamo di un dei migliori clan della community tedesca dalarna lushun e gdansk z44 per quanto riguarda gli alleati contro yamagiri gearing darling e som il destroyer tier 9 britannico per quanto riguarda gli avversari devo dire che è una partita molto molto difficile dove il nemico controllerà brutalmente proprio il nostro lato di mappa noi avremo un radar destroyer assolutamente inefficace nel corso della partita anzi spoiler che verrà fondato a breve quindi sarà per me molto difficile riuscire a ricollocarsi nell'arco del match che cos'è il lushun comandanti è una gambot è una gambot ibrida anche se tecnicamente i suoi siluri sono piuttosto potenti sono i classici diptor della marina panasiati che arrivano fino a 11 chilometri e hanno anche una ricarica diciamo simile a quella dello yu e yang tier 10 quello che veramente contraddistingue questo piccolo grande destroyer sovietico è la forza e il rato di fuoco dei suoi cannoni che è veramente piuttosto notevole parliamo di batterie binate da 130 mm il lushun lo si può avere effettivamente costruendolo nelle 35 fasi del cantiere navale 30 delle quali sono gratuite e 5 forzate a pagamento esistono due tipi di pacchetti starter iniziali che potreste sviluppare per averlo a prezzo scontato uno è di 7000 gold che praticamente sono 23 euro finite quindi 5 fasi e scusate fate quindi questo starter pack che poi vi garantisce se comprate tutte le altre emissioni gratuite di averlo per soli 23 euro oppure c'è quello per gli spendaccioni da 11.000 dobloni effettivamente è costo maggiore quasi il doppio parliamo quindi circa 40 euro però effettivamente è un arrivo più agevole rispetto a quello classico più economico comunque sono 35 fasi da fasi da fare se volete averlo questo destroyer che qui vedete su in azione sta utilizzando la sua diciamo capacità di tiro superando l'isolottina anche se avete visto come i due destroyer abbiano fatto a pezzi letteralmente a pezzi il dansk avversario e sarà proprio questa incredibile capacità che hanno i due giocatori dei suricate che come sapete sono praticamente la migliore community francese a livello di clan detterà i ritmi nel corso della partita e per noi sarà praticamente impossibile riuscire a contenerli effettivamente tre suricate in divisione contro delle divisioni scarse come quello che diamo noi squadra a parte il giocatore dello yo boy con le millman e per noi era impossibile riuscire a combinare qualcosa anche il nostro radar cruiser da questo parte dei kfc e kentucky fries chicken probabilmente un ragazzo che vende pollo fritto non sarà particolarmente svelto infatti vedete poi la sua partita che terminerà praticamente a breve tra l'altro la colombo sarà incredibilmente protagonista molto raro vedere una colombo così efficace in una random battle dal punto di vista storico la nave c'è poco da dire è stato una una diciamo una collaborazione sovietica cinese con la neonata repubblica popolare cinese tra il 49 e il 56 che ha portato anche a uno stadio di avanzamento dei progetti i sovietici poi consegnarono effettivamente i progetti finiti alla cina doveva semplicemente costruire le navi ma poi la costruzione venne posticipata continuamente sicuramente per lo scarso livello tecnologico delle strutture cinesi infine però le navi vennero diciamo ricollocate successivamente dal progetto 41 quello del neutro scimi su cui si basava questi destroyer venne poi realizzato il classe luda che era una sorta di destroyer missilistico tra il 68 e l'87 dove nel quale vennero costruiti circa 15 unità basate sulle basi progettuali proprio dell'ushun che tecnicamente è il progetto 41 per quanto riguarda gli hp ne ha 24.000 con una armatura da 19 mm rinforzata sulle torri ma poi vedrete la sede dedicata mentre qui notate come stiamo cercando in qualche modo di impegnare le navi al centro che è l'unico cap che in questo momento garantisce punti e un po' di ossigeno alla nostra squadra che verrà completamente piallata a breve notare subito il posizionamento errato del brisbane che va in avance coperta nella zona centrale considerando che il nemico da quella parte schiera un radar oltre al fatto che schiera cosa come cinque navi di cui due navi in supporto divisione oltre che la corazza colombo che è piuttosto mobile andare in quella posizione vuol dire praticamente essere massacrati la nostra musashi alleata sempre molto timide nell'azione poteva andare al centro e massacrare il morsi invece rimane dietro l'isola senza fare assolutamente nulla anche lei si farà massacrare in un secondo momento sempre la scarsa velocità di lettura di mappa che hanno i giocatori alleati ormai in questo gioco più che per mancanza di esperienza proprio per mancanza di capacità di talento nel ragionare velocemente col proprio cervello che poi è una delle cose più importanti e indispensabili per giocare bene a world of warships le velocità della nave è piuttosto limitata anzi è uno dei suoi premi più grandi 37,8 nodi con la bandierina a bordo e se guardate tra i consumabili non c'è assolutamente la presenza del consumabile boost speed classico dei destroyer è la gun bot più lenta di world of warships capite anche voi che effettivamente è difficile ricollocarsi sulla mappa con un destroyer così lento ci sono addirittura alcuni incrociatori e alcune corazzate pensate ad esempio alla alla republic oppure alla nota borgogne che potrebbero addirittura pareggiarvi o superarvi in velocità in alcune azioni della partita immaginate un venezia che rincorrere questa nave non avete nessuna possibilità di scappare ecco perché ha un consument così basso di 5,8 chilometri di spottabilità via acqua effettivamente il suo ammettismo è buono e anche 2,9 via aria e via immersa però capite che questa velocità scarsa vi mette sempre nelle condizioni di dover scappare dal vostro avversario che questo non sia un destroyer e sia facilmente affondabile a cannonate come può essere uno shimakaze dato che comunque è una torpedo botte però capite anche voi che questa cosa nell'erco della partita può essere controproducente guarda ad esempio il nemico controlla completamente il lato destro a sinistra stiamo impiegando tantissimo tempo per spostarci guardate siamo a 36 nodi siamo tecnicamente quasi alla sua velocità massima e guardate come la nave è lenta comandanti è lenta a spostarsi se per caso la partita dovesse accadere una cosa che mi è convenzionato adesso ovvero dovesse crollare completamente un fianco prima di ricollocarsi dall'altra parte passerebbero minuti interminabili e questa cosa metterebbe a serio a pericolo non solo la partita ma anche la vostra prestazione in acqua ecco perché è una nave che magari una divisione può andare benissimo perché lavora benissimo come suoi cannoni ma giocata singolarmente dipende veramente tantissimo dagli altri dalle altre navi in squadra e questo molto raro che accada nel classe destroyer molto spesso non destroyer a dettare i ritmi in partita invece un destroyer passivo se non ha qualcuno che spuota se non ha qualcuno che agisce per lui a livello di assistenza non riesce effettivamente a imprimere il suo ritmo alla partita questi canoni che state vedendo adesso hanno una balistica di 950 metri al secondo è piuttosto notevole una far chance del 6% e una ricarica base di 1,6 secondi sono veramente molto buoni tra l'altro 130 mm sono canoni piuttosto grossi hanno un brandeggio a 180 10 secondi netti quindi anche abbastanza veloce a ruotare e hanno una gita da massima con le skill e i moduli che poi vi farò vedere di 15 km e 300 metri gonfiati comunque dalla skill sulla colonna 1 da 4 punti la dispersione a quella distanza di 121 metri ma il colpo tende ad aprirsi in maniera piuttosto anomala e contro l'Iowa sul finire della partita ve ne renderete conto guardate un po' sono passati neanche 8 minuti metà della nostra formazione di storia è stata affondata quasi metà della nostra formazione batship è sul fondo dell'oceano e come andanti noi siamo da questa parte contro il Somme e basta mentre a destra è imperversa sottolineo imperversa il dominio della divisione su Riccate e soprattutto del Marsiglia e dell'Indenburg a supporto che stanno completamente attaccando il cap centrale ormai è rimasto indifeso perché la Musashi si è fatta ammazzare stupidamente proprio dai soluri del Gering a non infidarsi in quella diciamo arcipelago centrale doveva andarci in primo momento e non solo adesso anche qui ancora una volta non è ben chiaro quello che volesse fare questo tizio con la corazzata per quanto riguarda i siluri perché monta anche dei torpedo sono due lanciatori qui intupi di dip top quindi colpiscono solamente cruiser portaerei e batte ship non colpiscono ovviamente i destroyer avversari da 533 mm ricaricano in circa 109 secondi con i moduli a bordo 65 nodi alla velocità massima danno massimo 17.900 simile al danno dello Yuyang leggermente più basso gitata massima autonomia massima dei siluri 11 km bene ma non benissimo se confrontate alle gitate dello Yuyang che è di oltre 2 km maggiore effettivamente i siluri sono anche buoni però non sono il suo compartimento offensivo principale diciamo che lo possono diventare solo in alcune partite ma in altre vi accorgerete come effettivamente sono i cannoni quello che veramente fa la differenza quando usiate il Lucian in partita che comunque ve l'ho detto all'inizio è un destroyer assolutamente economico perché ragazzi 23 euro più le fasi da completare gratuitamente non lo troverete mai una nave tier 10 sottolineo tier 10 alla modica cifra di 23 euro praticamente impossibile è un semi premium da questo punto di vista per quanto riguarda poi le diptor e le dip bomb cioè le bombe di profondità sono un po' un suo problema perché vedete è vero che lui ha un sonar quindi può andare effettivamente sopra il sommergibile e avvistarlo senza nessun problema il problema è in un secondo momento è il fatto che queste dip bomb sono scarsamente dotate di danni fanno solamente 1700 di danno a bomba ha due ramp da 12 con 40 secondi di rigare quindi effettivamente se non vedete il sommergibile sotto di voi non riuscirete a fare così tanti danni come ad esempio lo fanno le bombe americane o le bombe di profondità giapponesi che sono tra le migliori del compartimento per questa specialità quindi capite anche voi che questo aspetto contro un sommergibile che tra l'altro si muove a buona velocità mentre voi si avete sicuramente una velocità maggiore ma comunque limitata rispetto a altre navi capite anche voi che può essere un po' un problema nell'arco di alcune partite infine completiamo con l'antiaerea che è piuttosto scarsa 25, 37, 130, mediocre 178 di danno continuativo e 1932 radiante fino a 6 km bene l'agittata molto molto male il danno continuativo quello radiante dipende anche molto dell'abilità della portiera avversaria se questa è brava a evitare le flac nere nei cieli allora questo danno esplosivo sarà fine a se stessa altrimenti potrebbe comunque fare il caso suo abbiamo ora lanciato i nostri siluri a destra verso l'isola dove c'è l'indemur questo è perché abbiamo previsto che passasse prima o poi da uno o dall'altro lato sono pur sempre dei deep torp quindi sapete benissimo che anche se l'indemurga un potente sonar è molto difficile che possa evitare quei siluri che si vedono solamente a circa 800 metri dalla nave avversaria l'aiowa dimostra di avere delle pessime assolutamente pessime capacità di balistica nel tiro e noi continuiamo a colpirla sulla fiancata cercando incendi in maniera insistente abbiamo trovato con due siluri l'affondamento sul incrociatore pesante tedesco quindi una delle pochissime kill fatte dalla nostra squadra e a questo punto non possiamo fare altro che impegnare le navi che vengono dal nostro lato la roosevelt intelligentemente ha subito deciso di andare verso sinistra mentre l'eimelman è in grosso ritardo là dietro e non possiamo fare altro che scacciare un po' l'aiwa e poi cercare di attaccare il gruppo centrale che ora cercherà di spostarsi come un'onda per massacrare il cab di hack che è l'unica zona che garantisce punti e per adesso alla nostra squadra c'è poi un ultimo aspetto interessante di questa nave che avete già visto in azione nel corso del match ed è il reparto consumabili ora il sonar come sapete è da sempre uno delle armi più potenti del compartimento panasiatico solamente tedeschi dispongono di apparchetture sonar migliori il Lojang famosissimo premium tirotto uno dei primissimi destroyer premium del gioco appunto un sonar eccezionale l'unico al tirotto ad avere un sonar così potente ecco diciamo che questa nave ha un spotting del sonar di 3,8 km sui siluri e 5,5 sulle navi di 500 metri inferiore al sonar del leggendario Z52 quindi chiamo comunque verso quegli standard il problema è che se non avendo la cortina famogena non potete fare il gioco dello Z ovvero avvicinarvi usare la cortina sparare da non spottati vedendo quello che deve fuori alla cortina di 6 km quindi capite che questo sonar è puramente difensivo per riuscire a diciamo compensare le pessime capacità di manovra di timoneria della nave che vira in 700 metri in questo è l'identico scherzissimo timone a bordo anche del progetto 41 Neutrashimi mentre continua il massacro contro l'Aiwa che poveraccio veramente quel tizio non sa sparare decidiamo a questo punto di lasciarla andare anche perché fa un po' ridere se guardate perché è più veloce di noi effettivamente riesce a raggiungere delle velocità spaventose tecnicamente non è più veloce di noi ma quasi lo è considerando la stazza quindi tonnellata per potenza l'altro aspetto positivo della nave oltre ovviamente al sonar è il suo incredibile repair party non è un repair party normale si chiama EV repair party se ci pensate bene l'avete già visto in azione in passato su questo canale sto parlando ovviamente dell'EV repair party a bordo dell'incrociatore da battaglia Sevastopol infatti esattamente come l'incrociatore Sevastopol anche lui riesce a recuperare tantissimi punti vita per un largo tempo in questo caso si parla di circa 60 secondi veramente un repair party che dura tantissimo ma c'è un problema recuperate 144 HP al secondo per un minuto ma questo repair party ha una ricarica di 114 secondi quindi sì potreste avere la meglio su un DD avversario utilizzando i cannoni ottimi e questo consumabile però in un secondo momento rischiate anche di essere brutalmente massacrati quando magari questo va in countdown vi servirebbe e non avete più il supporto di questo importantissimo consumabile quindi sì è sicuramente importante avere un destroyer che recupera punti vita soprattutto quando si parla di un destroyer che non ha la cortina fumogena come il Lucian però comandanti sapete benissimo che in condizioni del genere questo repair party potrebbe abbandonarvi tra virgolette quando magari vi serve grazie appunto al fatto che la countdown è particolarmente lungo il nemico dopo aver affondato la Immelman che poveraccia non poteva più scappare all'attacco di Daring, Gheri, Marsieglia, Colombo, Izumo e chi più ne ha chi più ne metta decide ora di spostarsi verso la povera Shikishima che è diventata un po' la nave da lapidare in questo momento noi cerchiamo continuamente le sovrastrutture con l'incendio su Izumo e Colombo trovandolo anche sporadicamente e continuiamo ad accorciare su di loro per far sì che possano rimanere comunque nel raggio d'azione dei nostri cannoni da 130 mm avete visto che oltre ad esserci un rato di fuoco piuttosto importante stiamo sparando da full vita altrimenti potrebbe scendere ulteriormente la ricarica dei cannoni avete visto come comunque l'incendio arriva con discreta rapidità perché comunque è un 6% ma considerando che è uno secondo e mezzo di ricarica diciamo che e dai e dai e dai alla fine dell'incendio arriva anche se effettivamente potrebbe sembrare che la fair chance non funzioni probabilmente bene come potrebbe sembrare su altre navi la T-44 non riesce non si sa come ad affondare la Roosevelt che riesce in qualche modo a sfuggire ai siluri della torpedo bull tedesca e a questo punto siamo uno contro sei noi contro Marsiglia Gehring, Colombo, Izumo e Daring a rimorchio diciamo di rilanciare una siluri in quella direzione prevedendo che Izumo e Colombo prima o poi uscissero proprio in quella zona dell'arcipelago ma vi spoiler raccomandati che la partita finirà prima presto anche perché lo avete stato affannato dalla Roosevelt e loro sono arrivati ormai in prossimità dei 1000 punti quasi 150.000 da anni in partita a segno ma una partita modestissima che però vi fa capire anche come effettivamente sia abbastanza difficile riuscire a performare la grande come una nave che quando il team alleato non funziona effettivamente non funziona come altre navi questa è un po' diciamo la recensione tecnica del gameplay dell'uscio questo è lo screen partita quasi 150.000 danni con solo due siluri a segno 9 incendi ma quasi 500 colpi avete visto come effettivamente sostanzialmente è un colpo un incendio scusate ogni 50 colpi bene ma non benissimo come potrebbe sembrare però se fate due calcoli matematici diciamo che effettivamente la media è quella cioè 5-6% di Fire Chance lo screen partita è piuttosto eloquente abbiamo giocato in 4 questa partita 5 fai noi la Portairi il Dalarna l'Himmelman la Shikishima e un po' anche qualcosa ha fatto la Z44 il resto della formazione non è pervenuto Cruiser e Batshima a parte la Shikishima completamente smantellate dalla Colombo il gearing avversario diciamo la divisione Suriket ha fatto una differenza ma guardate infatti le posizioni in classifica delle loro divisioni contro le nostre divisioni piuttosto assai modeste per quanto riguarda i moduli e le skill a bordo sono le seguenti allora comandanti per prima cosa io vi consiglio di utilizzare il comandante Sanzenbin se ce l'avete è quel comandante in basso destra che potete vedere nell'icona non si può più ottenere almeno non si può più ottenere rispetto a quelli che erano i canoni classici iniziali ma è un comandante straordinario sulle gambot sui panasiatici scusate oltre al fatto che quando ottiene la medaglia scout diminuisce la ricarica dei suoi cannoni quando arriva a un milione e mezzo di danno potenziale e lo può fare considerando che è una gambot questa qua migliora la ricarica dei consumabili oltre a quello se mette a segno 6 siluri migliora tutte le volte del 5% la ricarica dei suoi torpedo è un comandante che sui destroyer ci va veramente come il burro con il pane cioè fatto apposta proprio per i destroyer panasiatici grandissimo Sanzenbin per quanto riguarda i moduli hanno migliorato anche la gittata scusate la ricarica dei cannoni a livello di balistica perché effettivamente avere una dispersione migliore vi aiuta perché comunque il cannone tende un po' a sbarlare oltre 12-13 km miglioramento della ricarica dei siluri il boost della velocità per il motore perché comunque avete visto che ci chiamo spesso fermi quindi avere una spinta maggiore ci aiuta a evitare i possibili colpi vi sconsiglio la timoneria migliorata perché comunque non andrete a migliorare più di tanto il timone che è già pessimo del progetto 41 per quanto riguarda le schede del comandante gli abbiamo preferito vedere effettivamente quando qualcuno ci spara contro per evitare per fare delle virate che possono in qualche modo evitare i colpi perché comunque è lento la stand perché essendo appunto senza cortina capita spesso che vi ritroviate in mutande senza motore o timone in mare aperto e poi il miglioramento dei cannoni a livello sia antiero che effettivo con la ricarica la città migliorata che in questo caso arriva a 15,3 km le HP migliorate sono un must perché comandanti non avete la cortina avere più punti vita possibili è l'unica arma che avete a disposizione nell'arco del match per quanto riguarda l'armatura generale del Lucian che però è piuttosto secondaria perché è un DD quindi l'armatura sticassi la classica armatura 19 sullo scafo ponte incluso sovrasture da 13 e poi c'è questo sistema di torrette rinforzate perché hanno 10 mm lateralmente nella parte superiore e 20 mm sulla piastra frontale all'interno dove poi effettivamente mostrano quella lato armatura quando sparano contro il target avversario nulla da segnalare diciamo un'armatura classica del destroyer sono questa particolarità delle torrette per quanto riguarda i pro e contro quindi il bilancio finale del destroyer semi premium diciamo è il seguente i punti di forza li avete visti raggiunge un buon quantitivo di punti vita canoni veloci in tutti i sensi eccellente balistica sonar buon mimetismo abbastanza economico perché comunque avevo detto prima 23 euro più le 30 missioni da finire oppure ancora 40 euro e addirittura dovreste finirne 24 di missioni quindi capite anche voi che è comunque è impossibile trovare un tier 10 a questo costo semi premium poi recupera i punti vita comunque è una particolarità per un destroyer tier 10 anche se effettivamente sono sempre di più di tier 10 che hanno questo repair party anche se questo in realtà è speciale perché è lì vi repair party e infine forte nel combattimento di di controlli proprio perché grazie ai suoi cannoni al fatto che può recuperare questi tanti punti vita in un minuto riesce bene o male a compensare l'aspetto magari di avere un gap di leggero di hp o di numero di cannoni perché comunque lui non ha solamente 4 e quindi ha la meglio contro altri destroyer da questo punto di vista non è assolutamente sottovalutare nel combattimento faccia a faccia a un altro cacciatore pediniere i punti deboli li avete visti anche in questa partita nessuna cortina fumogena a bordo quindi capite anche voi che contro le porteri siete carne da macello decisamente molto lento difficile ricollocarlo nell'arco della partita nel caso in cui perdete un fianco come è accaduto in questo match poi serve tantissimo tempo per spostarsi dall'altra parte e questo tempo poi lo pagate nell'arco del match o a fine match anti-era mediocre il solito timone russo 700 metri di raggio vrata è tantissimo però una nave che deve stare in campo aperto usate sempre con saggezza il vostro sonar perché è un salvataggio contro l'arrivo dei siluri senza il sonar potreste magari trovarvi una wave che passa lì per caso e sarebbero dolori per la vostra nave non sempre facile a giocare perché appunto dovete interpretare molto il gioco o il non gioco dei vostri alleati e infine le sue bombe anti-som sono abbastanza scarse come ho detto prima hanno un danno massimale molto basso e anche se ne lancia parecchie cercate sempre di avere il sonar contro il submergibile perché altrimenti questi potrebbero sfuggire proprio per il fatto che le vostre bombe gli fanno pochissimi danni rispetto all'air strike nei cieli delle battleship o degli heavy cruiser oppure delle bombe di profondità giapponesi e americane che sono di ben altra caratura e di peso quando vanno a segno sui battelli avversari questo comandanti è il Lucian consigliato non consigliato sì comandanti per il costo che ha è sempre consigliato perché effettivamente se uno gioca tutti i giorni o quasi tutti i giorni è comunque un DD che vi costa 23 euro tier 10 quindi sì è economicamente vantaggioso a livello prestazionale onestamente io personalmente preferisco lo Yue Yang con il suo torpedo boost reload e il suo boost della velocità piuttosto che il Lucian però sono effettivamente dei gusti personali questa è la prima vera gambot hybrid gambot del compartimento panasiatico quindi è comunque una particolarità all'interno di quella tipologia di marina per quanto riguarda il resto siamo sul finale come sempre ricordo che siamo online durante la settimana su Twitch vi è piaciuta la recensione vi piace il nostro canale volete dare una mano avete Amazon Prime collegate allo Twitch ottenete Prime Game attraverso il link giù nell'info box qui nelle informazioni e potete veramente dare una mano tutti i mesi del canale con un piccolo contributo gratuito perché lo paga Amazon attraverso il vostro Amazon Prime che diventerebbe in questo caso Prime Gaming altrimenti l'abbonamento standard costa 4 euro è un euro a settimana ragazzi meno di un caffè però non tutti vogliono spendere questi soldi magari per supportare un piccolo creator come me e il sottoscritto e l'ammiraglio grigio quelli sono i vantaggi che potete avere abbonandovi al canale come vedere lo streaming senza pubblicità vedere le registrazioni dello streaming avere il badge abbonato e soprattutto il supporto tecnico tutte le domande che fanno gli abbonati durante la live troveranno risposta nella maniera più esaustiva possibile su qualsiasi nave durante le live di Twitch durante la settimana dopo le 20 giù nell'info box c'è il link anche del nostro canale seguiteci anche sul sito Viola come sempre ringrazio tutti i giocatori della Blizzard Squad che supportano le nostre iniziative tra i mari di World of Worship e noi ci risentiamo mercoledì probabilmente con una nuova unità spagnola in uscita da sottoscritto e dall'ammiraglio del lago di Garda è tutto signori come sempre buona caccia